Dopo l'accoglienza a Palazzo Comunale del Consore della Georgia a Bari, Vactanga Angulazze, e di Cate Acelizze, Vice Consore da parte del Sindaco Domicili Berti, del Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Tommaso Pace, degli Assessori La Montanara e Sportelli, nella sede del Circolo Pivò di Castellana Grotte, evento sul tema Conoscere la Georgia. Obiettivo dell'iniziativa organizzata dall'Agenzia Turistica Georgiana Loro degli Argonauti è far conoscere la Georgia al pubblico italiano, Sacartvelo, stato dalla giovane indipendenza sulle rive del Mar Nero, situato su una delle linee convenzionali di demarcazione che separano l'Europa dall'Asia. Una terra ancora poco conosciuta in Occidente, dalle enormi impotenzialità. Mi raccontava il console Angulazze che ha 30 cavità carsiche, è la nazione dove addirittura è nato il primo vino rosso, quindi c'è questa affinità tra culture, tra storie, tra grotte, e credo che saranno punti che ci vedranno coinvolti sempre più in questo sorta di gemellaggio che andremo a realizzare il prossimo anno, dove Castellana sarà ufficialmente una città gemellata con la capitale della Georgia o una delle città della Georgia e coglieremo l'occasione per intensificare sempre più gli scambi culturali tra Castellana Grotte e la comunità georgiana. Con Loro degli Argonauti si apre anche al turismo in Georgia, è pronto a partire? Sapete bene che noi quando si tratta di turismo, di collaborazione, siamo sempre prontissimi e sarà un vero piacere poter collaborare con loro perché sono davvero brava generale. Guardate, c'è una frase che mi ha colpito, che loro hanno scritto sul deprima che mi hanno fornito, dove l'ospitalità loro la definiscono così. L'ospite infatti è considerato un dono di Dio e viene accolto in famiglia al pari di un figlio. Beh, credo che sia la definizione per eccellenza dell'accoglienza e non a caso la Puglia e anche Castellana hanno sempre dimostrato di essere una regione e una città accogliente. Quindi come vedete queste affinità poi in modo naturale creano questa empatia che nasce ufficialmente quest'oggi con la comunità georgiana. Hai convenuti la possibilità di apprezzare i paesaggi, la storia del paese, a partire dalla mitica colchide che vide Giasone sottrare il vello d'oro, ai costumi tipici, ai gioielli artigianali, al capolavoro letterario georgiano del XII secolo, il cavaliere con la pelle di Pantera. E poi musica dal vivo e gastronomia. Oggi è un giorno particolare perché abbiamo le nostre concittadini georgiani che vivono qua, che hanno presentato proprio la Giorgia come il paese, con la storia, ricca storia e cultura. Veramente hanno fatto un gran bel lavoro. Brindisi poi con lo straordinario vino georgiano, erede dell'antichissima tecnica di fermentazione in grandi anfore di argilla chiamate che vivri, sepolte nel terreno. Soddisfatte le fondatrici dell'agenzia Loro degli Ergonauti, le georgiane Katuna Sharaze e Nina Mamukaze, giornaliste che vivono e lavorano in Italia. Oggi è una giornata importantissima. Due donne georgiane, giornaliste immigrate in Italia, Katuna Sharaze e io sottoscritta, abbiamo presentato all'agenzia di viaggi Loro degli Ergonauti e come abbiamo sottolineato anche con i nostri ospiti, questa non sarà una semplice agenzia turistica, ma sarà il modo di approfondire il ponte dell'amicizia e dei rapporti fra i due paesi. Grazie a tutti.